eccoci qui di nuovo su one piece 3 sul cui io sono one piece android 46 e sono tornato dopo tanto tempo dalla mia inattività sul canale oggi vi porto questo gufest di 40 gemme quindi una speciale di 40 gemme andiamo a vedere come va a finire ok iniziamo con il primo pool ci sarà non ce la faccio più una gara e queste certe persone non le posso vedere più scusatemi ma lo devo fare scusatemi completamente perché secondo me stamattina c'è la seccia boh siamo di nuovo adesso cominciamo col pullaggio perché non lo so secondo argentone non è tanto normale ovunque basta con sti cosi di gozza questa ce l'ho evoluta ma quasi a livello massimo non maxato al massimo però ma non vabbè però dai qualche personaggio ps nuovo che c'è anche nel su cavolo ma che palle stanno scendo gli stessi bull ragazzi non so se è forte o meno non so le caratteristiche ovunque non so le caratteristiche sono siccome non so il compreso Pink Sì, questo Lo so, guardi Ok, ok L'ultimo punto L'ultimo punto, ragazzi Giochiamocelo bene quest'ultimo punto Fai uscire un dofa, porca miseria Fai uscire un dofa Per la miseria Eccusà 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 Giustamente questo ce l'ho già voluto A livello centro Abbiamo finito la gemma Quindi questo è tutto ragazzi Questo Sugufest Pessimo Gli è andato pessimo Spero che questo video vi sia piaciuto Fatelo sapere con un bel like qui sotto Iscrivetevi al canale per chi ancora non l'ha fatto E noi ci vediamo presto Con tanti e tantissimi nuovi video Ciao All right All right D